ben tornato nel mio canale news ultime notizie aggiornate oggi terremoto a pochi minuti dall'inizio della puntata del lunedì del grande fratello vip sonia bruganelli lo scopre dai social e non è affatto felice sono ore davvero frenetiche quelle che anticipano l'inizio del consueto appuntamento del lunedì con il grande fratello vip manca poco all'inizio della diretta ma arrivano notizie a dir poco sorprendenti che riguardano non solo la casa ma anche lo studio sonia bruganelli opinionista al fianco di alfonso signorini ha scoperto poche ore fa su twitter una novità che non avrebbe mai pensato di scoprire dai social una piccola polemica è scoppiata in queste ore sui social generata sotto un post pubblicato proprio dall'account ufficiale del gf vip 2022 sonia bruganelli lo scopre su twitter terremoto negli uffici mediaset la querella esplosa nel pomeriggio di oggi i social media manager della pagina ufficiale del gf vip hanno pubblicato una foto che mette al centro dell'interesse orietta berti giulia salemi e carmen russo tre protagoniste assolute dell'edizione 2022 del gf vip tra queste mancava proprio la moglie di paolo bonolis opinionista della trasmissione che piccata ha risposto così dopo aver notato questa esclusione voluta dallo staff del gf una frecciata velenosissima quella lanciata dalla bruganelli sollecitata dalle sue tantissime fan che taggandola le hanno fatto notare dell'esclusione dalla foto ha deciso di rispondere a tono accendendo ancora di più gli animi come lei è consueta fare vedremo se questa sera durante la diretta sonia deciderà di ritirare in ballo questo tema grazie per aver guardato le mie notizie iscriviti al canale per gli aggiornamenti quotidiani delle notizie punto esclamativo